Musica 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 Ok Allora guardate che cosa stanno facendo queste sono le scuole le case dei ferrovie vedete c'è la scuola salvo d'acquisto via collatina hanno detto che bonificavano tutto qui c'è l'acquedotto poi vi faccio anche l'acquedotto guardate l'acquedotto eccolo qua vedete l'acquedotto un altro po' rompono pure e stanno a scaricare tutta la monnezza sopra l'acquedotto eh e questo dov'è essere tutto bonificato si è sfondato il terreno come ve lo faccio vedere guardate e non vi è nessuno qui l'ho detto a tutto e di più e guardate l'immondizia che hanno sotterato ecco guardate bene e questa è la montessa che vorrebbero coprire tutto vedete dove è eh ecco 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 questi suoi lavori non vi è nessuno la roba l'ho chiesto pure a te ecco ecco a posto